Il punto zero sta explodendo. È fuori controllo. Mettete in sangue. Se non lo fermo, può distruggere l'intera esistenza. Hai ricevuto gli ordini. Ora abbassene. Farò quello che avremmo dovuto fare dal principio. Andrò dai sette. Hai fatto un giuramento. Stai tradendo ciò per cui abbiamo lavorato. Mi servirà. Dai, vieni. Dai, vieni. Dai, vieni. Dai, vieni. Dai, vieni. La fortuna è fermata. Non andare dai sette. Josh, Josh, risposta. No, 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 no. No, 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 no. Vieni, vieni. Non lo fermo. Ma non è il problema. Vieni. Hai, vieni. Ma non è il problema. Ullavau das paccasso. Muschia! Tai, tai. Incredibile. Ha funzionato davvero. Senti, so che non hai motivo di fidarti di me, ma... Oh, no. Aspetta, portiamo! Portiamo! Geno! Posso portarti, Geno? E le sorelle? Posso portarti tutti, ma dovrai aiutarmi a riparare qualcosa. Affare fatto. Per ora. Oh, molto rassicurante. Mettiamoci al lavoro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.